In questo video faremo vedere come preparare il famoso zeppolone per San Giuseppe, cioè la zeppola di San Giuseppe gigante. Ovviamente noi a Napoli non lo potremmo chiamare semplicemente come i parigini, i francesi, la Paris-Brest, un nome così bello raffinato. No, o zoppolone, cioè la zeppola piccola, la zeppola grande. O zoppolone, che deve riempire proprio già la bocca, già ti deve saziare solo il nome. Noi l'abbiamo realizzato con le fragole, si possono realizzare con le fragoline, alla nocciola, a tutti i gusti, a nostro piacimento. Vai con la sigla! Salve a tutti amici, benvenuti nel mio angolo di pasticceria. Oggi realizzeremo il famoso zeppolone per San Giuseppe, cioè la zeppola grande. Noi a Napoli, ovviamente, come vi dicevo, abbiamo dato questo nomignolo della zeppola piccola, la zeppola grande, lo zeppolone. È una sorta di Paris-Brest, fatta invece a mo' di zeppola, sempre con il sistema della pasta bignè, con sopra le mandorle filettate. Noi abbiamo messo mandorle filettate, vi potete mettere qualsiasi tipo di frutta, si scabrasta che sia cruda, perché poi nella cottura si va man mano a tostare, quindi preferibilmente deve essere una frutta secca, ma cruda, ancora cruda, non tostata. Ne abbiamo preparato una crema chantilly alla napoletana, cosiddetta crema diplomatica italiana, fatta con crema pasticcera e panna montata. Aromatizzata, in questo caso noi abbiamo aromatizzato con il liquore a fragola, mentre voi potete usare qualsiasi tipo di liquore. Mi raccomando andate a guardare, adesso compare la scheda bianca, con la scritta le zeppole di San Giuseppe, per realizzare le zeppole di San Giuseppe sia al forno che fritte. Cliccate sopra questa schermata e verrete indirizzati sul video di come eseguire le zeppole al forno e le zeppole fritte. Andiamo a vedere questa magnifica lavorazione. Grazie. Grazie. L'acqua nella pentola, pesiamo il sale e mettiamo il burro e accendiamo la fiamma e portiamo sempre ad ebollizione. Assicuriamoci sempre che il burro sia sciolto per bene e man mano, vedete, iniziamo a sciogliere il burro prima che arriva l'ebollizione, altrimenti arriva l'ebollizione e ci sono ancora pezzetti di burro. Ecco, arrivata al massimo dell'ebollizione, assicuriamoci che non c'è nessun pezzo di burro e versiamo tutta la farina restando sempre a fiamma accesa sotto la pentola. Io ho preso una pentola un po' troppo piccola e rischio di buttare tutto fuori, però faccio piano, ecco, in questo modo sempre a fiamma accesa vado ad un certo punto, vado a mescolare energeticamente affinché il composto si fa ben solido, vedete, sempre a fiamma accesa. Ecco, vado a girare molto energeticamente perché il composto a questo punto si fa un po' più duretto, non come la zeppola fritta, ma comunque inizia a diventare molto duro. sempre a fiamma accesa tutto ciò vado a girare continuamente anche da basso verso l'alto, vedete, non solo in senso orario, ma vedete anche da basso verso l'alto in modo tale da mescolare per bene tutta la farina che c'era all'interno. vedete, il composto è abbastanza asciutto e spegniamo sotto la pentola e passiamo il tutto sul tavolo ecco, ad impasto ancora caldo, come vedete tolto dal fuoco, direttamente in una teglia questa qua, un recipiente di acciaio vado ad inserire un uovo per primo io ne ho preparate 6 di uova ma alla fine ne ho messe 5 preparate 6 perché poi ho visto che la consistenza era giusta non deve essere un impasto troppo molle altrimenti viene fuori uno zeppolone molto umido e ci metterà molto molto tempo ad asciugarsi del forno ecco, vado ad incorporare il primo uovo in questo modo adesso che ho schiacciato per bene tutto l'impasto ovviamente questo passaggio si può fare sia in planetaria sia con il frullino a mano ecco, metto il secondo e il terzo uovo sia con il frullino a mano facendo sempre attenzione di non lavorare troppo l'impasto altrimenti risulterà molle vedete, io vado a inserire con un cucchiaio di legno avendo la forza nelle mani dopo tanti anni di lavoro ecco, in questo modo facciamo quest'operazione boom, è volato un pezzo, l'ho ripreso ecco e vado ad inserire le ultime due uova l'ultimo non l'ho inserito che già risultava l'impasto ben solido non deve risultare molle, vi ripeto, questo impasto girate molto energicamente l'impasto per evitare, diciamo, che ci siano vedete come deve risultare bello sostenuto, non molle l'uovo che non vedete più nella terrina l'ho messo il tuorlo nella crema pasticcera l'ho tolto proprio, diciamo, dal lato lavorazione della scena qualcuno sicuramente dirà l'uovo che fine ha fatto non vi preoccupate la ricetta è giusta vado a togliere il cucchiaio di legno dalla lavorazione e uso questo cartoncino vado a raschiare ai bordi del recipiente uso un sac a poche con becco largo vedete la misura del becco è più o meno sui 16-18 cm riempio il sac a poche con il composto ecco con tutto il composto e vado a chiudere il sac a poche vedete in questo modo l'impasto risulta molto sostenuto quindi mi raccomando di non fare un buco troppo largo davanti al sac a poche altrimenti fuoriesce il becco e perdete un sacco di tempo vado a fare un giro come se fosse una zeppola piccola normale poi vado a fare un altro giro a fianco ecco un altro ancora partiamo dal centro della teglia così potete usare anche qualcosa di rotondo tondo scusate per fare questa operazione per farvi un disegnino vedete poi faccio dei giri sopra e vado a chiudere in questo modo consumando tutto l'impasto vado a chiudere anche sopra ecco in questo modo e voilà abbiamo fatto questo prendiamo le mandorle a filetti o altra frutta secca ho usato mandorle a filetti vedete allora se usate frutta secca potete anche rimanere lo zeppolone normale con il riccio formato dal sac a poche però sicuramente vi verrà uno zeppolone con lo sviluppo anomalo tipo la zeppola normale mentre se mettete come faccio io la frutta secca sopra questa o altra dopo andiamo a modellare con le mani e quindi abbiamo anche uno sviluppo dello zeppolone molto più omogeneo dovuto proprio a questo sistema di mettere la frutta secca sopra che dà un mi sono bagnato le mani vedete e vado ad allargare un po' centralmente il buco vado a mettere la frutta secca più omogeneo in modo più omogeneo allo zeppolone e vado a schiacciare anche vi dicevo comunque causato dalla frutta secca lo zeppolone viene con uno sviluppo molto molto più omogeneo anziché se lo facciamo senza frutta secca fate una prova e vedete che è come vi dico io vedete io vado a modellare in modo tale da avere un diciamo uno zeppolone omogeneo con la frutta secca sopra che non cadrà diciamo ma si è appiccicata si è attaccata all'impasto perché ho le mani bagnate ecco fatto ciò ovviamente siamo già preriscaldando il forno a 180 gradi vedete che spettacolo il nostro zeppolone è bello tondeggiante fatto a mano ovviamente voi potete usare anche qualche stampo per darvi una mano vado a infornare a 180 gradi vedete per circa 60 minuti e dopo 60 minuti il nostro zeppolone guardate che bello bello sviluppato guardate come vi dicevo è sviluppato in modo molto omogeneo perché abbiamo modellato anche con le mani la frutta secca abbiamo schiacciato sopra e adesso andiamo a fare la crema pasticcera a questo punto passiamo alla crema pasticcera mettiamo sempre amido e zucchero nella pentola andiamo a girare amido e zucchero in questo modo in modo da non far creare grossi grumi quando inseriamo il latte tanto noi comunque io in questo video vi faccio vedere il sistema di come usare il frullatore emersione prima di cuocerla quindi andiamo a rompere tutte le i grumi ecco vediamo vado ad aggiungere il latte e giro in tutte le parti diciamo dove è rimasto zucchero e amido ecco in questo modo giro continuamente io potete giustamente usare qualsiasi crema pasticcera a vostro piacimento io vi faccio sempre un ripasso di come realizzare la crema pasticcera e vado a inserire i tuorli vedete senza problemi perché tanto vado a usare il frullatore emersione inserisco i tuorli e a questo punto vado a frullare il tutto con il frullatore emersione vedete in modo da togliere tutti i grumi non c'è bisogno di fare nessuna pastetta di solito si fa la pastetta con tuorli farina e zucchero in questo caso ho messo tutto insieme tanto senza problemi passiamo comodamente il frullatore emersione per togliere tutti gli eventuali grumi e poi passo a cottura come sempre fino al totale assorbimento del latte fin quando la crema è asciutta e ben cotta all'atto che accendo sotto la fiamma inserisco il burro vi ripeto voi potete fare qualsiasi crema pasticcera però vi assicuro che se fate questa crema pasticcera è una crema pasticcera ben sostenuta in quanto carica di amidi le macchine danno fastidio in quanto carica di amidi quindi è ben sostenuta per la zeppola vedete man mano poi si va a cuocere vi dicevo la zeppola di San Giuseppe ha bisogno di una crema ben sostenuta in quanto alta e deve rimanere diciamo il riccio come diciamo a Napoli la rosa di crema crema pasticcera e questa crema pasticcera è sicuro che rimane bella dura e non se ne e non crollerà dalla zeppola ecco vedete man mano si inizia a cuocere come sempre sembrano grumi ma sono grumi di cottura non sono grumi di farina quindi quando si va a cuocere completamente si toglieranno tutti vedete man mano anche con una semplice cucchiaia di legno si vanno a togliere figuriamoci adesso che vado a passare anche il il frustino a mano vedete che è a fiamma sempre accesa tutto ciò ancora adesso vado a spegnere soltanto quando il fondo vedete si inizia a staccare la crema dal fondo a questo punto posso anche spegnere la fiamma del gas vado a togliere la cucciata di legno e metto la frusta per dare giusto una girata con la frusta ecco in questo modo vado a togliere e do una bella frustata alla crema vedete che spettacolo diventerà liscissima e poi vado a mettere un recipiente semplicemente in un recipiente d'acciaio se volete raffreddarla rapidamente magari il recipiente usatelo ben freddo di freezer così subito lo raffreddate mentre se come me vi serve il giorno dopo comodamente si raffredderà con calma girandola di tanto in tanto con un cucchiaio io lo uso d'acciaio cucchiaino d'acciaio non c'è bisogno di usare utensili freddi ma se volete usarla rapidamente la potete anche direttamente mettere in congelatore circa 10 minuti e subito si raffredderà a freddo vado a unire il sale e gli aromi potete usare qualsiasi aroma a vostro piacimento sia agrumi sia vaniglia liquida vaniglia in polvere e vado a girare di tanto in tanto ovviamente dopo ho messo sale e aromi di tanto in tanto fin quando non si raffredderà completamente e qua adesso prendiamo il nostro zeppolone raffreddato da almeno 2-3 ore vedete è normale che collasserà un poco lo zeppolone anche come le zeppole perché diciamo che fisiologicamente proprio tecnicamente è un impasto molto pieno di diciamo di impasto è un cerchio di impasto molto carico di impasto centralmente quindi rimane umido ed è normale che collassi un po' centralmente l'impasto ecco vado a tagliare vedete mi raccomando dovete tagliare con precisione altrimenti fate un macello si strappa tutto lo zeppolone mentre vedete facendo in questo modo tagliando bene verso il centro abbiamo vedete vi faccio vedere anche l'interno è uno zeppolone che rimane morbido anche dopo un paio di giorni poi inizia ad asciugarsi ed è normale andiamo a pendere vado a pendere tutta la crema pasticcera vedete come vi dico sempre la crema pasticcera deve essere sostenuta per ricevere poi la panna montata ed avere una crema diplomatica chantilly come diciamo a Napoli questa per noi è la chantilly c'è qualcuno che dice questa è la crema diplomatica a Napoli per noi questa qua è la crema chantilly tecnicamente chiamata anche in italiano diplomatica sappiamo che la crema chantilly in Francia è la panna e basta eccetera vado a inserire i 200 ml di panna montata nella in tutta la nostra crema chantilly vedete e vado a girare energicamente in modo tale da avere una crema chantilly vedete come vado a fare una bella sbattuta in questo modo vado a inserire i 30 grammi di liquore ecco vado e continuo a girare vedete come vi dicevo allora la crema pasticcera è normale che risulti una crema pasticcera bella sostenuta perché dobbiamo avere una crema diplomatica bella spumosa e sostenuta in modo tale per la lavorazione molto più semplice che comunque deve ricevere anche le fragole internamente che sono vedete ho messo un sac a poche con un becco riccio in questo caso ma può essere anche liscio non molto grande vedete che comunque avendo anche una crema pasticcera sostenuta la crema la crema chantilly o diplomatica come vogliamo chiamare risulti ben solida e vellutata quando andremo a mangiare vedete se facciamo già una crema pasticcera bella molle avremo una crema diplomatica molto molto molle che quando andiamo a tagliare e andiamo a inserire le fragole tagliate da tutte le paccole diciamo vedete da inserire centralmente come vi dicevo questa crema diplomatica o chantilly è una crema che non abbiamo inserito altri agenti come gelatina in polvere o gelatina in fogli perciò è una crema che rimane fluida quindi puntiamo tutto sull'energia che ha la crema pasticcera e il montaggio della panna bello sostenuto in modo tale da avere una crema affinale molto sostenuta andiamo a inserire come vedete in modo molto omogeneo i pezzetti di fragole in modo tale da spargerli bene in tutto il dolce non li mettete solo a posti e altri posti diciamo di mane vuoto ecco in questo modo e poi con la restante crema chantilly che è rimasta nel sac a poche andiamo a ricoprire di nuovo lo strato che se rimaniamo solo le fragole così come stanno rischiamo che quando abbiamo la fetta si stacca il pezzo di sopra invece noi facendo in questo modo a parte che viene ben carico di crema che è la cosa più bella che ci sia come vi dicevo inizialmente questo dolce lo potete fare anche con fragoline abbiamo fatto con le fragole normali si può fare la nocciola qualsiasi gusto frutti di bosco comunque è buono in tutti i modi può fare anche crema amarena normale come lo zeppola normale vado a chiudere vedete che spettacolo il coperchio dello zeppolone io l'ho rifinito con zucchero a velo in superficie c'è anche chi lo rifinisce senza zucchero a velo lo rifinisce con la gelatina per dargli un tocco di lucentezza ecco vedete com'è bello quando è sostenuto l'impasto e anche la crema lo potete prendere anche con le mani e andiamo a prendere ancora la restante crema e facciamo il classico riccio della zeppola in finale dove sta il buco vediamo tutta la crema chantilly e andiamo a riempire con la restante crema meglio che la crema rimane un po' in più che poi vi serve non ci sta in questo caso ne è avanzata pochissima e con le restante fragole che vi ho indicato in ricetta vado a fare vedete dei pezzi tondi delle fragole voi potete usare qualsiasi tipo di altro taglio per la decorazione potete fare a quadrettini a cubetti diciamo tagliandola diversamente da come l'ho tagliata io in questo caso ho fatto dei l'ho tagliata diciamo in modo trasversale la fragola da ottenere dei pezzi tondi ecco ho chiuso così il cerchio e poi alla fine centralmente ho inserito una fragola per intero con le foglie per avere un po' di colore verde e voilà il nostro zeppolone è pronto grazie grazie io faccio il mio assaggio guardate la fetta che spettacolo andiamo a fare questo ennesimo sacrificio a prendere un pezzo una crema freschissima bellutata la frutta secca esterna tostata punto giusto ragazzi mi raccomando se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like iscrivetevi al mio canale seguitemi sui social instagram e facebook mi raccomando lasciate un commento qui sotto che come sempre vi risponderò a tutti ragazzi alla prossima ricetta ciao